Ciao a tutti amici del leone, benvenuti nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, creatività e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di voi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Quello che vedremo oggi sono le tendenze energetiche per la seconda parte di febbraio. Come dico sempre, sono letture fatte per un collettivo, quindi prendete solo i messaggi che vi servono e lasciate andare il resto all'universo. Se poi volete avere un messaggio più completo potete ascoltare il vostro ascendente segno lunare e nella descrizione del video ho lasciato il link per un video che ho pubblicato che spiega come integrare i messaggi di questi tre oroscopi, quindi del segno solare, del segno lunare e dell'ascendente. Bene. Mostrami, leone, tendenze energetiche affettive per i prossimi 15, grazie, 20 giorni. Abbiamo la temperanza. Cari amici del leone, si tratta di portare pazienza. Probabilmente qualcuno è in una fase dove appunto non ha molto, diciamo così, potere di movimento, non ha molto... o semplicemente si è in una fase dove bisogna aspettare qualche tipo di evoluzione degli avvenimenti o della relazione, ok? Per qualcuno la temperanza potrebbe fare riferimento a quello che è un percorso di guarigione, ok? Nel mazzo tradizionale la temperanza è disegnata con un angelo, quindi fa anche riferimento a quello che sono le vostre guide e comunque, diciamo, chi vi protegge. Andiamo a vedere nello specifico perché abbiamo la temperanza. Allora abbiamo il sole, il 6 di bastoni al contrario, un fante di bastoni al contrario, un 3 di coppa al contrario. Abbiamo un 4 di bastoni, un 9 di pentacoli, un 6 di pentacoli e la giustizia alla fine. Sì, c'è da portare pazienza perché in questa prima parte della lettura sento che per certi versi siete un po' bloccatini. Il sole al contrario mi fa venire in mente che non siate del tutto in connessione con quello che è il vostro, diciamo, bambino interiore, con quello che potrebbe essere la vostra essenza, ok? La carta del sole fa riferimento anche agli amici molte volte, quindi per qualcuno potrebbe essere, potrebbe anche fare riferimento a quel campo lì, diciamo. Ricordo che è una stesa sulle relazioni affettive, non necessariamente romantiche, ok? Bene, il 6 di bastoni al contrario mi fa pensare che c'è qualcuno qui che sta aspettando un qualche tipo di esito, un qualche tipo di riuscita, un qualche tipo di riconoscimento che però sento non sta arrivando. Di nuovo qui è una carta degli amici con il 3 di coppe che è girato al contrario, quindi potrebbe essere per qualcuno che, diciamo, la questione amicizia sia presente in questo periodo. Il 4, abbiamo anche, scusatemi, il fante di bastoni al contrario e qui mi può far pensare a quello che potrebbe essere una sorta di immaturità di una delle due parti, sia che siate voi, sia che sia l'altra persona. Amico, amica, fidanzato o partner che sia, ok? Marito, compagno. Sento che per certi versi c'è quello che è una sorta di immaturità, sì. La seconda parte della stesa la vedo molto meglio, nel senso che abbiamo un 4 di bastoni e qui mi fa riferimento a quello che è un trovare la vostra stabilità, se vogliamo, non trovare quello che è la vostra felicità. Il 9 di pentacoli anche qui parla di quello che è l'indipendenza, parla di quello che è l'essere appagati di quello che si ha. Il 6 di pentacoli è un 6, quindi mi parla di quello che è un equilibrio, che è anche un po' quello che mi dice la carta della temperanza, bisogna trovare un equilibrio tra quello che sono i pensieri e quelle che sono le emozioni. E abbiamo poi anche la giustizia alla fine della lettura. E la giustizia parla di equilibrio, parla di quello che è necessario tagliare per riuscire a raggiungere questo tipo di equilibrio. Ma io qui sento che già siete su quella strada, ok? Verso la fine del periodo c'è già quello che per voi è un ritrovato equilibrio, diciamo. Bene, andiamo a vedere nello specifico di che cosa si tratta tutta questa stesa. Ho trovato questi tarocchi piccolissimi, bellissimi. Vediamo se riesco a farli stare tutti nel campo della telecamera. Ok, allora abbiamo un'altra volta il quattro di bastoni, è uscito anche qui, però questa volta è il contrario. E abbiamo un tre di pentacoli per spiegare la carta del sole. Allora sì, sento che probabilmente questo tipo di... Come vi posso dire? L'energia che esprime il sole al contrario in questo caso fa riferimento a quello che potrebbe essere per qualcuno molto molto concretamente riguarda una casa. Una casa di quello che è una casa in mattoni, quindi potrebbe essere che qualcuno non decidesse, però avesse la voglia, se vogliamo, di andare a convivere, di cambiare casa, di fare magari dei rinnovi anche, mi verrebbe da dire, a quello che è la vostra casa. Per altri, se non fosse una casa in senso fisico, potrebbe semplicemente fare riferimento a qualche tipo di progetto che in questo momento magari non si riesce tanto a sviluppare. Andiamo a vedere questo sei di bastoni al contrario. Allora, sei di bastoni al contrario è spiegato da un sette di spade e da un cinque di pentacoli. Quindi qui sento che qualcuno si è sentito probabilmente ferito, si è sentito tradito. C'è comunque quella che è una delusione con il cinque di pentacoli e il sette di spade mi fa pensare a quelli che sono le bugie, i comportamenti poco chiari. Quindi io qui sento che è come se ci fosse qualcuno che è stato un po' fregato, mi verrebbe da dire. Andiamo a vedere il fante di bastoni al contrario. Abbiamo un sei di spade, il matto e il chirofante al contrario. Quindi quello che sento io è che allora per qualcuno fa riferimento al fatto che questo fante di bastoni con il sei di spade e il matto sento che per qualcuno qui se n'è andato da un qualche tipo di legame, da un qualche tipo di progetto, da un qualche tipo di unione. Perché comunque abbiamo sia il sei di spade che il matto parlano dell'andare avanti, dell'allontanarsi, di intraprendere un qualche tipo di percorso nuovo. E avendo anche il papa al contrario qui sento che è come se ci fosse qualcuno che, come vi posso dire, è venuto meno una promessa, una cosa per lo stile. Il papa al contrario mi fa, anche il sei di bastoni al contrario, mi fanno pensare a quello che è un non riconoscimento, una, se vogliamo, una non ufficializzazione. Ma sento che è come se ci fosse qualcuno che è scappato qui. Andiamo a vedere questo, ok. Allora, il tre di coppe è spiegato un'altra volta dalla carta della giustizia e dal due di coppe. Quindi sì, sento fortemente che c'è stato un qualche tipo di ingiustizia per quello che riguarda questo giustizio. tipo di unione. Probabilmente ci sono state delle bugie, dei comportamenti poco chiari, delle cose magari che non sono state dette e che hanno creato questa delusione di cui mi parla il 5 di pentacoli, ok. E sento che è proprio legato a quello che è l'unione in sé, il compromesso, se vogliamo. Andiamo a vedere il 4 di bastoni, per piacere, grazie. È caduta una carta, adesso la recupero. Datemi la seconda. Perché il 4 di bastoni comunque mi parla di quello che è in realtà un'unione felice, ok. Io vi ricordo che qua ce l'avevate al contrario, mentre qui è dritto, quindi sembra che, come dire, nella seconda parte della lettura si arrivi a quello che è una sorta di appagamento inerente a proprio quello che potrebbe essere una casa. Parla anche di contratti, eh, quindi magari per qualcuno, non lo so se state lavorando con il vostro partner o con la vostra compagna, insomma, per qualcuno potrebbe anche proprio far riferimento a quello che è la firma di qualche nuovo contratto. Ma andiamo a vedere, ok. Allora abbiamo la ruota della fortuna, adesso vado a recuperare la carta che è caduta. Quindi in qualche modo c'è qualche cosa che cambia con questa ruota della fortuna, c'è un nuovo inizio, c'è la chiusura di un qualche tipo di ciclo, guardate. E poi abbiamo l'alta sacerdotessa, che normalmente fa riferimento proprio a quello che sono le decisioni, diciamo, prese a buon fine. Anche la sacerdotessa, come diciamo il sette di spade, parla di delle cose che sono nascoste. E anche la giustizia, ce l'avevate due volte, parla di quello che potrebbe venire a galla. Qui è più una questione di parole, è più una questione di, come vi posso dire, o siete voi che ve la raccontate o è qualcuno che dice proprio delle bugie a voi stessi. La sacerdotessa fa riferimento in realtà a quello che non si vede a livello conscio. Quindi, per certi versi, sento che, guardate, è una bellissima zona della lettura, eh, vi dico. Perché comunque, appunto, c'è questa voglia di cambiare, c'è questo cambio, o per, diciamo, questione divina, nel senso che arriva la giustizia e taglia quello che non serve più, oppure perché siete voi che state facendo un qualche tipo di lavoro a livello interiore e che quindi state, tra virgolette, rivalutando quello che potrebbe essere la vostra idea di casa, la vostra idea di stabilità, o semplicemente, magari state rivalutando l'importanza che ha una casa per voi. Magari non è così importante come pensavate qui. Allora, il 9 di pentacoli è spiegato da un cavaliere di coppe, da un 8 di spade e da un 10, scusate, da un 9 di spade. E guardate, o può avere due letture, o diciamo che cercate di rivalutare con questa sacerdotessa che c'è, no? State cercando un attimino di ricalibrare quello che potrebbero essere, come vi dicevo prima, le vostre idee inerenti a una casa, oppure si tratta proprio inerente a quello che è la vostra unione. Perché qui l'impressione che ho è che stiate cercando di essere soddisfatti con quello che avete, con quello che vi dà il vostro partner o la vostra partner, ok? Nonostante non vi convinca tanto la cosa perché abbiamo queste due carte. Quindi sento che comunque c'è quello che è un vostro rumino mentale per cercare di dare un giusto valore, se vogliamo, a quello che vi dà questa persona, questo cavaliere di coppe. Nel caso non abbiate nessuno, ok? E questo facesse riferimento a un qualche tipo di storia del passato, il cavaliere di coppe potrebbe essere proprio qualcuno che entra nella vostra vita. Ma, ripeto, non vi sento molto convinti, probabilmente siete anche un po' sulla difensiva, perché ci sono tutti questi pensieri, ok? Quindi l'otto di spade fa riferimento ai pensieri autoboicottanti, autosabottanti, a quello che sono le gabbie interiori. E il nove di spade, di nuovo, fa riferimento a quelli che sono i pensieri che creano ansia, che creano preoccupazione. Probabilmente siete tanto proiettati verso il futuro. Andiamo, ok, allora, cavaliere di bastoni per spiegare il 6 di pentacoli, poi abbiamo un 10 di pentacoli e un 2 di bastoni. Quindi, per qualcuno, questo nuovo equilibrio che si va a trovare, diciamo, verso la fine della stesa, di nuovo, è un cavaliere di bastoni. Allora, o potrebbe essere un'altra persona, ok? Nel senso che poi comunque abbiamo la giustizia, la giustizia ha due piatti della bilancia, quindi potrebbe essere che sono due persone che entrano nella vostra vita. Oppure potrebbe essere una persona vicino a voi, ok, che magari vi dà, come vi posso dire, quel senso di pace, quella speranza di poter trovare quello che è la vera unione. Perché avete poi comunque un 10 di pentacoli, che parla di unione, parla di successo, parla di riconoscimento, parla di doni, parla di aiuti, di soldi. È un 10, quindi è la chiusura di un ciclo e l'inizio di un ciclo nuovo. Quindi io comunque questa parte della stesa la sento molto, molto meglio, ok? Ricordatevi che avete comunque la ruota della fortuna qui, quindi qualche cosa sta per cambiare. Può anche essere semplicemente il vostro modo di vedere le cose. Ok, allora, la giustizia è spiegata dalla forza al contrario e dal 3 di bastoni al contrario. Allora, qui avete il 2 di bastoni e qui avete il 3 di bastoni. C'è qualche cosa che, sì, che si deve tagliare. Sento che qui c'è un qualche tipo o di atteggiamento o un qualche tipo di, come vi posso dire, di aspettativa che per certi versi va tagliata. Sento che qualcuno non ha la forza, perché la carta della forza è girata al contrario. Quindi sento che per qualcuno non si ha o la forza o la volontà di andare avanti. È come se fossero un pochettino scarichi. Vi ricordo che avete ancora tutti questi pensieri, però voi focalizzatevi sul trovare l'equilibrio tra quello che è la vostra parte emotiva e la vostra parte mentale, ok? Perché anche la temperanza parla appunto di creare quello che è un equilibrio tra, diciamo, le nostre zone d'ombra e quello che sono le nostre zone di luce, ok? Perché comunque anche le zone d'ombra esistono e non è giusto ignorarle. Bisogna accettarle, bisogna integrarle in realtà, perché anche quelle fanno parte di noi. Bene, andiamo a vedere con i tarocchi di Osho il conscio e l'inconscio. Andiamo a vedere che cosa c'è, così che si vede e quello che non si vede. Io intanto vi ricordo che se volete supportare il canale potete mettere un like al video, potete iscrivervi se non l'avete ancora fatto e potete condividere. Bene, andiamo a vedere conscio e inconscio per gli amici del leone. Cosa si vede e cosa non si vede. Ok, wow. Allora, abbiamo la carta di essere ordinari e proiezioni. Me le metto un po' più su, così le vedete. Ok. Allora, essere ordinari mette l'accento su quello che è il giorno dopo giorno. Avevate un uovo di pentacoli qua. Quello che sento è che dovete, tra virgolette, imparare a vivere nel flusso quotidiano, cercando di godere di quello che avete, senza pensare troppo, senza lambiccarvi troppo il cervello su quello che è giusto, su quello che non è giusto. Senza pensare troppo al futuro, perché crea ansia. Quindi, cercate di, come vi posso dire, entrare nel ritmo quotidiano del fare le cose, anche le cose semplici, come potrebbero essere, non lo so, pulire casa, piuttosto che, non lo so, cucinare. Però farlo in modo consapevole, in modo cosciente e entrare come in un flow, si dice, entrare nel flusso, no? E da lì viene un po' questa sorta di meditazione che porta questo entrare nel flusso, no? E sì, è un otto di denari, in realtà. Quindi parla anche di quello che è proprio il lavoro, nel senso del quotidiano. Ecco, la carta delle proiezioni è interessante, perché non avete neanche la luna una volta, però questa carta fa riferimento proprio, come dice la luna, a quelle che sono le proiezioni, ok? Quindi io sento che qualcuno qui sta proiettando le proprie aspettative nei confronti di una situazione o di una persona, e in realtà è una propria proiezione. Ricordatevi che le proiezioni sono distorte, perché quando vi guardate, per esempio, anche solo in uno specchio, l'immagine che viene riflessa nello specchio non è uguale all'originale, è sempre un po' diversa, ok? È sempre un po' falsata. E anche, diciamo, le proiezioni hanno questo, tra virgolette, rischio, no? Quindi si proietta quello che è un'immagine illusoria, se vogliamo, di quello che è la realtà. Quindi, ecco, forse quello che dovete, diciamo così, pulire un po' dentro voi stessi, sono proprio questo modo, insomma, di proiettare la vostra realtà nei confronti degli altri, mi vorrebbe da dire, ok? Ok, andiamo a vedere gli angeli del cuore che messaggio hanno per voi. Un ultimo messaggio per chiudere la lettura. Comunque, la carta della temperanza parla anche di guarigione. Quindi io qui sento che, nonostante ci sia, diciamo, questo tipo di energia all'inizio di non espansione, sento, è come se non vi venissero date delle conferme, per certi versi. Sento che all'inizio, scusate, sento che verso la fine della stesa, questo tipo di ragioni, questo tipo di conferme, poco a poco andrete a trovarle da soli. Nel senso che non avete più bisogno di un'altra persona che vi dica sì, no, questo è così, questo è... È come se riusciste a darvi un voto, diciamo, no? È come se riuscisse ad essere più obiettivi, più reali, realistici. Una carta per gli amici del leone, per piacere, grazie. Ricordo che anche la stesa finisce con una bella giustizia e quindi è una carta di equilibrio, è una carta di riuscita. Se per caso avete qualche pratica burocratica in ballo, è una carta che magari qui, perché ce l'avete anche qui, qui non tanto, ma verso la fine della stesa, sì, è quello che è una vittoria per voi, ok? Wow, anima gemella, sì, questa persona è proprio la tua anima gemella. In effetti abbiamo un bel quattro di bastoni ripetuto due volte, c'è un due di coppe, quindi sì, per qualcuno potrebbe fare riferimento a quello che è un'anima gemella, non per tutti, c'è anche la ruota della fortuna, non per tutti ovviamente, però ecco, per molti sappiamo che l'anima gemella non deve essere un'anima con la quale, diciamo, ci si unisce necessariamente a livello romantico, potrebbe anche essere un parente, un amico, e le anime gemelle si incontrano nella vita perché sono anime che ci possono insegnare delle cose e viceversa, anche noi insegniamo delle cose all'altra persona, ok? Ecco, diciamo così che non è una relazione idilliaca come ce la si aspetta, ok? Perché anche le relazioni di anime gemelle sono piuttosto, come vi posso dire, burrascose no, perché non è la parola giusta, però con alti e bassi, ecco, ma come in ogni relazione del resto. Bene, cari amici del leone, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura in qualche modo vi sia stata utile, io vi ringrazio tanto per essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao, ciao!